Ciao a tutti, mi chiamo Matteo Benini e siamo qui a Rimini per la seconda tappa del Campeonato l'italiano moto d'acqua, dire adesso come arriviamo domani è difficile però speriamo di poter portare a casa un bel risultato ragazze voi come siete messi in classifica? io ultima, io prima! tu sei prima? di che categoria? 12-14 12-14 e che cosa fai domani vinci ancora? oddio si spera si spera? sono Sara Lucera, sono campionista in carica di Spark F4 femminile sono molto emozionata per la gara di questo weekend ciao a tutti, mi chiamo Pietro Alloterre, ogni numero è quattro e ad oggi sono terzo in classifica al Campeonato italiano in categoria GPU spero intanto spero solo nel Marmosso ti fermi vuoi il moniale muita baris mentre mia mamma le portate su un prod24 ancora al non'T affinarey in grado студiatore tengo mi mani con me lei non sono abitare non mi v는iosi quindi la questa mani con me io è augurato non mi non succederò pessimo non mi chiedendo Grazie a tutti.